Parliamo ancora di volley perché conquista la prima posizione della Pool B la Savino del Bene Scandicci che bagna il debutto casalingo a Siena al Palaestra con una convincente vittoria sulla Lokomotiv Kaliningrad Region. Il servizio di Lorenzo Agnelli. La Savino del Bene Scandicci vince ancora in Europa. La squadra di Marco Mencarelli bagna il debutto casalingo in Champions League al Palaestra con una convincente e importante affermazione sull'emergente formazione russa del Lokomotiv Kaliningrad. Delle forti schiacciatrici Voronkova e Klegher e della palleggiatrice serba campionessa del mondo Dershka. Il 3-1 con parziali 26-24, 23-25, 26-24, 25-21 per le padrone di casa si decide sostanzialmente nel finale di terzo set vinto ai vantaggi. Savino del Bene è guidata da una bravissima Elena Pietrini, MVP dell'incontro con 22 punti e 6 muri, da una solida Stisiac con i suoi 18 punti e dall'ingresso dell'olandese Slötis alla fine del terzo set, protagonista della rimonta e della vittoria del set. Le Toscane di coach Mencarelli quindi si portano a casa tre importanti punti che la fanno balzare momentaneamente in testa alla classifica del gironi a 5 punti. Siamo felici così e andiamo avanti per la nostra strada, tanto sappiamo che sarà tutto difficile dal campionato e anche soprattutto nella Champions. Diciamo che noi abbiamo questi blackout e dobbiamo lavorare su questo, però tante volte durante la partita, siccome ormai siamo consapevoli di questo, ci siamo dette ragazze lo sappiamo che noi siamo così, che abbiamo questi momenti e quindi cerchiamo di non fare noi gli errori ma di farli fare agli altri. Alla fine magari qualche parola in più ogni tanto serve. Siamo 15 atleti indispensabili per qualsiasi cosa, per qualsiasi momento soprattutto, perché sono i momenti che cambiano le partite. Quindi dobbiamo essere squadra e tenere questa alchimia sempre.